Io lavoro alla comunicazione di Telecom e di Team, in particolare in questo momento il mio focus è sull'attività di rebranding di passaggio dal marchio Telecom al marchio Team come unico marchio commerciale dell'azienda. Questo deve avvenire entro primo semestre del 2016. È una straordinaria opportunità per l'azienda di diventare più moderna. Io sono convinta che questa volontà di Team di portare il paese nel futuro abbia una parola chiave, anzi forse due, semplicità e prosperità. Noi abbiamo la possibilità di una vita più semplice e questo è anche cercare di dare un unico marchio e proprio per semplificare la scelta e semplificare la cosiddetta customer experience. Quello che poi è l'altra grande opportunità e quindi scommessa che possiamo fare noi è quello di portare maggiore prosperità alle aziende. la banda ultralarga che sia essa fissa o mobile è un'occasione straordinaria per questo paese perché è l'occasione per diventare più veloce, essere al passo con l'Europa, essere più colto, essere più curioso. Gli start-upper sono una delle forme più avanzate di mettere insieme il genio italiano con le possibilità di generare posti di lavoro, di vivere meglio, di dare opportunità. La nostra forza sta in questa capacità di trovare soluzioni e di avere idee creative. Il futuro si costruisce anche perché è un futuro che si aspetta, è un futuro che subisci, un futuro che partecipi a costruire, è un futuro che ti assomiglierà di più e in cui sarai più a tuo agio. Per un'azienda come la Team, il dare questa opportunità ai giovani sia dentro che fuori, ecco che cosa rappresenta? Energia.